Ciao a tutti, oggi vi porto un video leggermente fuori tema, rispetto ai soliti standard del mio canale. Scusate la lunga assenza dal canale, di recente ho dovuto affrontare un trasloco, ed i lavori da fare sono sempre infiniti, chi ci è passato almeno una volta capirà. Ma torniamo a noi. Tutto ebbe inizio nella ricerca, per la nuova casa, di un orologio, particolare, e da subito mi era imbattuto in questo, mossi, ovviamente il costo avevo uno zero di troppo, rispetto a quanto volessi dedicare per l'acquisto di un orologio da parete, quindi ho deciso di farlo in casa con le mie mani, o quasi, seguitemi. La base di questo orologio è il lichen stabilizzato, una sorta di muschio dalle proprietà fonoassorbenti che non necessita di nessun trattamento, né tanto meno di idratazione. Cladonia portentosa per la precisione. Il colore originale è come lo state vedendo a video. Ma cosa ci servirà esattamente? Un anello contenitore di circa 30 cm di diametro, altezza 5. Una base in legno, compensato da 5 mm nel mio caso. Ovviamente del lichen è stabilizzato del colore che preferite, io ne ho acquistato 500 g di rosso. Del silicone trasparente, mi raccomando, in odore. Un meccanismo per orologi, la dimensione maggiore che riuscite a reperire, 23,5 mm la mia scelta. Un kit di lancette, o più, per gli indecisi. Ed ovviamente, una batteria. Questo è quanto. Per l'anello di rivestimento attorno, mi sembrava brutto usare un kit per torte, anche se l'idea non è affatto male se a trovare posto per l'orologio e la cucina. Io ho deciso di ingaggiare un artigiano di zona e realizzarlo in acciaio inox. Per la base ho ritagliato un disco in legno utilizzando il mio laser. Ma è facilmente realizzabile anche con un normale seghetto da legno. Essendo un laser a diodo e non a CO2, più passate sono state necessarie. Ma il risultato c'è. E lo chiamerò, Moswell Clock. Prima di iniziare il vero divertimento, però, c'è da pensare come fermare lo schienale, e come poi appenderlo al muro una volta terminato. Innanzitutto, essendo di soli 19 mm scarsi la distanza dal meccanismo alla prima lancetta delle ore, ho dovuto realizzare uno spessore per tenere il meccanismo al quarzo in avanti. E qui viene in aiuto la stampa 3D, assolutamente necessaria nel 2022. Già che il peso complessivo finale è abbastanza importante, per scongiurare l'eventualità l'orologio potesse cadere a terra facendo danni, ho pensato di ancorarlo al muro con vite e tassello. Così di sicuro dal muro non si muoverà. Ed essendo quest'ultimo accessorio spesso 5 mm, ho dovuto aggiungere alcuni altri spessori per rendere omogeneo l'appoggio al muro. Trovate il link ai file di stampa in descrizione video. Per l'assemblaggio, essendo stata insufficiente la tenuta della sola colla a caldo, al lato interno dell'orologio, ho deciso di fermare il tutto con del silicone al posteriore. In uso, in casa avevo questo, Saratoga, sempre in odore, bianco durante l'applicazione, ma completamente trasparente una volta asciutto. Una volta applicato all'intero perimetro, stendiamolo per bene. In questo modo. Questo il risultato una volta asciutto. Completamente trasparente. Il mio consiglio arrivati a questo punto è di inserire la batteria e lancette. Per la batteria vi consiglio di utilizzare una fettuccina di tessuto come nel mio caso, ne faciliterà la sostituzione quando necessario. Vi ho menzionato anche le lancette, perché vi aiuteranno a monitorare la situazione delle altezze man mano che applicherete i ciuffi di muschio. Io ho deciso che i ciuffi di lichene non devono superare l'anello d'acciaio del bordo. Le lancette infatti, con il rialzo stampato in 3D, sporgeranno di qualche millimetro senza ostacolo alcuno. Bene, che il divertimento abbia inizio. Per il fissaggio, come già detto, è consigliato il silicone, trasparente perché si noti meno nell'installazione, ed in odore perché non vi puzzi l'intera casa di aceto per settimane. Ma potete usare anche una pistola di colla a caldo, se la ritenete più comoda. Scelto? Bene, iniziamo. Selezioniamo un ciuffo di partenza, dovrà essere alla giusta altezza. Perciò forbice alla mano, ed eliminiamo la porzione radicale che non ci interessa mantenere. Una volta controllato sia ok, applichiamo una porzione di silicone o colla che sia, e posizioniamo il ciuffo. Ovviamente se utilizzerete la pistola, avrete molti, fili, di colla con cui lottare. Eliminate le parti recise E proseguite con il lavoro fino al totale riempimento. A vostra scelta se utilizzare le parti più tondeggianti e da pallina del fiore, oppure la parte radicale. Io ho eseguito un giusto mix, anche perché altrimenti mi sarebbe servito il doppio del prodotto, inutilmente sprecato. Dimenticavo, dovendo ricoprire anche il meccanismo al quarzo, è necessario fermarlo alla struttura. Io ho optato per un nastro biadesivo molto forte. E dopo molta, e molta pazienza, più di quel che pensavo, questo il risultato finale. Il lichene avanzato è circa 250 grammi. Per lo più avanzi destinati alla pattumiera, o ad altre piccole creazioni. Gli stick di colla rimasti sono quattro, perciò l'intero lavoro ne ha richiesti circa sei pezzi. Questo è il secondo kit di lancette. Devo ammettere che il color legno, sullo sfondo rosso non è per niente azzeccato. Cercando nel web esistono decine, centinaia di versioni, forme e colori. Ma ancora una volta vi basterà una stampante 3D, per realizzarle da voi per qualche centesimo di euro ed in pochi minuti, come ho fatto io. White Edition. Come vi sembra il risultato finale? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Lo apprezzerei molto. Scelta azzeccata, oppure no. Come vi sembra il nuovo orologio inserito nel contesto? O ci avreste messo qualche altro tipo di orologio? Fatemelo sapere se vi va. E se ve lo state chiedendo, sì, la padrona di casa è lei. Come sempre vi ringrazio per la vostra visione fino a qui, vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, e vi aspetto al prossimo video, quando arriverà, chiaro. Ciao.